Buongiorno a tutti cari iscritti al canale YouTube di Francesco Gentile. Oggi vi voglio dare un aggiornamento molto importante che riguarda gli MPL immobiliari o crediti immobiliari oppure le persone che vogliono guadagnare con gli investimenti MPL. Voi sapete benissimo che io sono seguito dal 99% da investitori immobiliari, il mio canale è dedicato al settore immobiliare ma negli ultimi anni gli investitori immobiliari si sono catapultati ad acquistare MPL con un sottostante immobiliare e quindi si stanno veramente ottenendo delle grandi performance. Nonché io da imprenditore immobiliare ho aperto anche una nuova SRL lo scorso anno che è la Genova MPL Real Estate con licenza 115 TURPS per poter andare anch'io a prendere un po' di qualcosa che riguarda un settore che prima conoscevamo poco, prima del 2017. Allora, se intanto non sai che cosa sono gli MPL, scrivi qui sotto 6 mesi, nella sezione commenti scrivi 6 mesi, ti mando 6 mesi di lezioni gratuite che ti introducono al business degli MPL arrivando però dal business del settore immobiliare. Quindi noi utilizziamo sempre il sottostante immobiliare per comprare gli MPL. Quindi scrivi 6 mesi se non sai di cosa si tratta. Se invece sei già a conoscenza di che cosa sia un MPL, tieniti forte perché oggi comprare MPL con il metodo che tutti quanti insegnano e che è ancora utilizzato dai principali players italiani oggi questo metodo è contro la legge in quanto la nuova direttiva MPL che è stata creata nel 2021 dall'Unione Europea se non sai di che cosa si tratta scrivi PDF nella sezione commenti ti mando la legge e proprio la normativa europea è ovvio che magari ci capirai poco perché sono tutti articoli di legge però noi in Italia abbiamo avuto tempo fino al 28 dicembre 2023 per poterci adeguare. Ovviamente siamo in Italia l'Italia poi il 29 febbraio 2024 ha recepito la normativa con un ritardo di 3 anni quindi dal 29 febbraio noi dovremmo comprare crediti immobiliari o non immobiliari adeguandoci alle nuove regole che sono completamente diverse rispetto a quelle che si utilizzavano prima e che purtroppo oso e continuo a dire si continua ad acquistare in maniera illegale perché ti spiego la nuova normativa prevede dei protocolli completamente diversi molto più tutelanti per il debitore e molto più aperti verso le persone fisiche la normativa europea è nata per cercare di risolvere un problema che sta affossando l'Europa parliamo di un miliardo e duecento milioni di crediti in sofferenza ai quali si sono aggiunti anche gli UTP che però è un altro mercato che adesso non ti voglio confondere quindi siccome le varie nazioni hanno creato una sorta di lobby per cercare di spartirsi questo bottino miliardario la normativa europea prevede l'istituzione di un mercato secondario normato vigilato da una nuova figura che dovrebbe essere già esistente che permetta alla signora Maria Rossi di poter comprare come casalinga persona fisica un credito come comprare un appartamento tutelata da determinate e nuove figure poi permette la normativa di poter dare una prelazione al debitore ceduto cosa vuol dire? che se io dovessi comprare il tuo credito il tuo debito scusa in questo caso ti devo avvisare la legge prevede una raccomandata dicendo io sono diventato il tuo nuovo creditore punto e basta oggi la normativa prevede che una volta che ci sia un'intenzione di acquistare un credito in questo caso immobiliare chi lo acquista prima ancora di eseguire l'atto notarile con l'annotazione a margine ipoteca debba mandare mandato a un nuovo gestore del credito uno special service praticamente una nuova figura iscritta a un albo della banca d'italia che ancora non conosciamo come si chiama questo albo dove vai da lui come se fosse il vecchio notaio vai dal notaio da lui che non è un notaio e gli dici sto per comprare questo credito il nuovo gestore la nuova figura deve inviare una notifica per legge al debitore comunicandogli guarda che c'è questo signore o questa srl o questa azienda questa spa che ha preso accordi per comprare il credito il tuo debito a 100.000 euro tu avevi 200.000 euro di credito quindi ti faccio di debito ti faccio una bella figura faccio una bella figura nel dirti che se vuoi te lo puoi ricomprare te a 100.000 euro perché l'accordo è quello quindi hai una prelazione che dovrebbe essere maggiorata a seconda poi bisogna vedere perché non si applica ancora del 20% quindi cosa vuol dire tu a questo signore gli darai 100.000 più 20.000 euro per il disturbo però ti ha tolto 80.000 euro di credito se hai questi soldi puoi esercitare il diritto alla prelazione se non hai questi soldi entro 30 giorni se non rispondi noi facciamo comprare attraverso atto notarile annotazione di immagine ipoteca il nuovo cessionario del credito e in quel caso lì poi solo monetizza come vuole quindi come vedi è tutto protocollato dalla normativa ma in Italia oggi veramente c'è da spaventarsi si continua a trasferire dei crediti contro la legge contro la normativa il che significa che c'è troppa ignoranza se una qualsiasi striscia della notizia dovesse ricevere le lamentele di questi debitori ai quali si sta violando veramente i loro diritti poi vedrete che si adeguano tutti perché poi scoppia una bugna e addirittura potrebbero essere nulle queste transazioni però voi moltiplicatelo per miliardi di euro perché è ovvio che si sta facendo finta di niente non perché ce l'hanno contro il debitore ma perché in questo momento ci sono delle fusioni importanti da diverse società che gestiscono questi crediti e in più ci sono dei passaggi delle cartolarizzazioni miliardarie che se si dovessero adeguare immediatamente alla normativa dovrebbero mandare praticamente migliaia e migliaia di notifiche ai debitori ceduti loro avrebbero 30 giorni di tempo per poter rispondere che significherebbe andare a fermare un sistema che è già molto molto fragile in quanto ci sono banche che stanno veramente rischiando il fallimento ci sono situazioni in Europa appesantite da tutti questi crediti che ormai sono inesigibili e quindi stanno in Italia stanno facendo finta che la normativa non esista nonostante sia stata recepita il 29 di febbraio e iniziano a fare disegni di legge su proposte strane che sono comunque in questo momento contro una normativa approvata dallo Stato Italiano quindi se vuoi saperne di più eventualmente di come si dovrebbe comprare oggi e come si comprerà penso tra qualche mese non di più gli NPL immobiliari allora ti puoi iscrivere a un videocorso gratuito che si chiama NPL all'italiana che consegno a costo zero con l'iscrizione a un webinar che farò il 24 maggio 2024 che anche esso è gratuito che parla sempre di metodi per fare business con i crediti in sofferenza in questo caso se vuoi anche te saperne di più di come si compra oggi veramente i crediti anche se in realtà purtroppo i player non si sono adeguati stanno lavorando contro la legge scrivi italiana e io ti mando poi le informazioni per accedere a questo bellissimo videocorso che più aggiornato di questo si muore l'ho fatto ieri quindi ed è un corso che ti permetterà appena le cose diventeranno normali riprenderanno la loro attività normale di anticipare i concorrenti che non sanno minimamente ancora che tutto è cambiato bene ti ringrazio ancora ti auguro un buon business ci vediamo poi nella prossima lezione academy che verrà fatta entro sette giorni e niente e buona giornata ciao da franco grazie a tutti